Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Allora, vi faccio questo piccolo video che non è un tutorial, ma bensì parliamo un pochino di acquisti acquisti sbagliati e acquisti affrettati in questo caso parleremo della carta vi faccio questo video proprio perché ricevo tantissimi messaggi giornalieri quasi tutti i giorni di persone che si accingono appunto a approcciarsi a questo hobby e fanno degli acquisti affrettati senza conoscere il prodotto che comprano quindi si ritrovano con magari della carta che non è proprio necessaria al loro progetto al progetto che magari hanno intenzione di fare e quindi ho detto, visto che comunque anche io ultimamente ho comprato della carta diversa anche per aggiornarmi un attimino sulle nuove cose, i nuovi prodotti ne approfitto appunto per parlare un pochino e farvi vedere soprattutto perché un conto è vederlo disegnato in un catalogo online e un conto comunque è vederlo in un filmato e sentire anche come farò io lo spessore e la tessitura cioè il diciamo il prodotto dal vivo dunque allora la parte più importante su cui volevo soffermarmi un momentino era sul cartoncino sul cartoncino che tutte mi chiedono ma dove lo prendi e come come è grande come è grosso come è fatto ma perché il mio si rompe e ci sono tanti fattori e tanti punti di domanda allora il cartoncino non è tutto uguale ci sono diversi tipi di cartoncino e ci sono cartoncini e cartoncini cioè il cartoncino liscio il cartoncino ruvido il cartoncino che ha una una specie di tessitura fatta come un tessuto e anche la sua proprietà cambia cambia perché varia dagli utilizzi che si devono fare e poi ci sono le grammature le grammature che anche queste variano e non a caso variano proprio perché infatti con un certo tipo di grammatura possiamo fare dei determinati progetti e con altre con altri progettini e quindi sono sembra una cosa semplice però ogni diciamo cartoncino ha la sua utilità vi parlerò semplicemente del cartoncino che uso io per la maggior parte dei miei lavori siccome faccio tantissimi album allora io mi servo di un cartoncino che abbia una grammatura un po' diciamo sostenuta un po' bella spessa perché nelle pagine voglio che ci sia un bello spessore per essere diciamo fitte non molli morbide ma bensì ben composte ecco quindi di solito io mi servo di una grammatura di 2-220 anche 2,50 e molte volte anche 2,70 non arrivo a 300 per le pagine perché appunto poi le andrò a rivestire quindi metterò altro strato di carta e di conseguenza non voglio che siano troppo diciamo grosse perché poi andrà anche la decorazione mentre invece per fare dei progettini tipo delle card o dei bigliettini oppure non so dei motivi di scatoline io mi servo di una grammatura leggermente inferiore a 2,50 tipo un 200 180 perché la trovo più malneabile e soprattutto si presta benissimo per fare le pieghe quindi se devo fare delle scatoline appunto dei cassettini o dei motivi in cartoncino che abbia che hanno delle pieghe preferisco avere quel tipo di grammatura perché sono sicura che piegandole ripetutamente scusate ripetutamente non si taglia la carta ecco non si strappa non si in mezzo alla piega come molte volte può succedere ma succede solo perché il cartoncino è troppo grosso quindi essendo troppo grosso invece di piegarsi si taglia e adesso niente vi faccio vedere appunto la carta che il cartoncino che adopero io e che trovo qua ho voluto fare una piccola spesa per confrontare il cartoncino che solitamente io uso con quel cartone che noi vediamo tipo questo vediamo sempre nei cataloghi e diciamo chissà com'è chissà com'è sarà forse magari più bello anche perché comunque questo è molto più caro del semplice cartoncino che noi abitualmente compriamo nelle cartolerie o nei negozi specializzati l'unica differenza è che comprando questi pacchi almeno questo è che troviamo appunto un coordinato quindi possiamo prendere questo genere di cartoncino in coordinato e cosa vuol dire vuol dire che hanno una gradazione di colori che si intonano l'uno con l'altro quindi ecco sono in in gradazione poi troviamo anche appunto del cartoncino non a pacchi ma bensì unitario cioè che lo vendono separato e anche questo si chiama Bazzi perché è un cartoncino di base lo dice la parola stessa un cartoncino di base che è abbastanza insomma spesso però molto molto elastico fatto apposta appunto per creare le nostre pagine e i nostri lavori in scrapbooking questo cartoncino ho notato perché io l'ho comprato pochi giorni fa non l'ho ancora alloperato ho notato che oltre a essere con una trama tipo tessuto non so se adesso riesco a farvi vedere bene come è è molto elastico ma come grammatura diciamo che non è molto spesso quindi questo cartoncino probabilmente si presterà molto bene a fare ecco le pieghe diciamo perché è resistente come tessitura però non è molto spesso ma diciamo che è buono è bello a me insomma non è dispiaciuto però ho notato che non è tanto diverso da quello che compro io qua e vi faccio vedere anche quello che confero io qua ed è molto buono ugualmente e adesso ve lo faccio vedere ecco pressa poco ha lo stesso colore ma è leggermente più grosso di questo vedete che anche questo ha una specie di tessitura ecco questo è il cartoncino che compro io qua purtroppo voi lo vedete così 30x30 ma in realtà sono eccolo questo è un altro colore sempre lo stesso ma in realtà questi cartoncini li vendono in pacchi da 10 ma sono grandi un metro per 70 quindi sono molto grandi a me hanno fatto il favore di tagliarli perché mi sono messa in ginocchio li ho pregati in mille lingue perché mi piaceva molto il cartoncino e quindi desideravo tanto avere queste misure e siccome non ho un'attrezzatura adatta per poter tagliare un foglio un foglio così così grande quindi me lo sono fatta tagliare non so se me lo faranno la seconda volta però io spero di sì però ecco non me la sentivo di prendere righello matita cutter e via dicendo perché avevo paura di rovinarlo e magari andare storta sapete l'anzianità fa anche questo e quindi me lo sono fatta tagliare e la differenza diciamo che non è non è tanta sono tutti e due belli e a questo punto avendo visto appunto che non c'è questa gran differenza ho deciso che continuerò a comprare questi perché insomma come prezzo si risparmia molto di più ho voluto appunto togliermi questo sfizio perché volevo capire se c'era tanta differenza e se valeva la pena spendere di più per questo prodotto qua e secondo me no l'unica cosa di bello è che questo diciamo un blocco di carte viene venduto in coordinato ecco l'unica cosa di bello è quella allora poi ho comperato e questo ve lo faccio vedere perché così voi vi rendete conto quando andate a guardare e vedete molte volte passano in osservate tante cose perché ci lasciamo prendere dalla pubblicità le nuove collezioni e questo e l'altro però ci sono anche delle carte che vale la pena tentare di vedere che magari non dicono niente nella nella fotografia nel web sembrano normali invece ma sono belle e hanno delle utilità che possono essere straordinarie vi faccio vedere un blocco di carte che io ho comperato e che non c'è più perché ho riguardato per riprenderlo ma non l'ho visto più e quindi mi è dispiaciuto perché diciamo che questo blocco di carta è un blocco di sempre della graphic 45 e viene usato principalmente per creare degli sfondi ma a me sembra un peccato creare solo degli sfondi perché io l'ho trovato veramente fantastico ora ve lo faccio vedere e sono praticamente dei cartoncini embossati cioè dei 30x30 che hanno questa embossatura che noi non l'avremo mai così bella perfetta in un 30x30 perché almeno io no perché ho la big shot che ti fa solamente il quadratino della fustella della cartella e basta mentre questo è bello grosso ma sempre elastico vedete molto molto bella questa questa carta si potrebbe anche usare per fare dei rivestimenti perché no tipo rivestimenti di una copertina o rivestimenti anche di oggetti in compensato oggetti in cartone è veramente ottimo e lo trovate cioè si trova si trovava che non c'è più in cinque motivi diversi cinque disegni diversi in cinque gradazioni di colore diverso ve li faccio vedere così molto velocemente vedete che bello cioè si vede meraviglioso sembra quasi veramente stoffa stoffa dura molto molto bello e quindi questo è un altro acquisto che va ponderato perché io mi sono azzardata a comprerlo perché ho pensato appunto a questa cosa al fatto del rivestimento di una copertina ci proverò vedremo cosa cosa esce fuori in più se non sbaglio essendo così bello spesso come cartoncino grattandoci sopra con una come si dice che adesso non mi viene la parola lo sapevo con la carta vetrata ecco con la carta vetrata non troppo diciamo non troppo dura si possono avere anche degli effetti non solo imbossati ma anche distressati qua sopra e devo dire che è molto molto bella mi è piaciuto tantissimo pensavo fosse una cosa del genere ma non ero sicura finché non l'ho vista quindi mi sono anche azzardata a comprerla perché io molte volte le mie compere le faccio anche per scoprire e vedere appunto cose che non conosco e magari trasmetterle anche a voi ok poi cosa vi voglio far vedere per quanto riguarda la carta e gli acquisti un'altra cosettina non facciamo confusione con le collezioni e i set di carta ve lo dico perché è successo a una mia cara amica che lei era convinta di aver preso una collezione perché c'era scritto kit mentre invece si è ritrovata un kit di carte che non è come una collezione di un blocco ma bensì proprio un kit e vi faccio vedere come si possono presentare anche i kit di carte così voi siete anche preparati io ce l'avevo qui un attimo che arrivo perché qua mi sono preparata tutti i blocchi da farvi vedere ma voglio prima cosa farvi vedere queste questi kit di carta il kit di carta questo è un esempio quello che ho io però normalmente anzi generalmente si presentano in questo modo sono 12 possono essere 12 10 dipende sempre dalla casa costruttrice ecco questo per esempio è della kaiser kraft questa è della kaiser kraft quindi è un set io lo chiamo set di carte che ha un determinato tema quindi cosa ci ritroviamo ci ritroviamo le carte abbinate al tema che noi abbiamo scelto e sono due uguali che hanno le due facce così questo è un kit cioè set da 12 carte dopo le 12 carte i 12 appunto fogli di carta che sono vedete due per tipo e sei disegni ci ritroviamo sempre con degli stickers oppure dei chipboard che sarebbero dei pretagliati tipo questi che sono inerenti alle carte abbinate quindi noi avremo un kit di carta non una collezione e sono carini anche da prendere questi perché possono essere utilizzati sia per fare un album cioè per fare appunto la partenza di un album sia anche per fare dei layout oppure non so visto che sono doppi si possono fare anche delle diciamo scatoline oppure bustine cose del genere ok io ho preso avevo preso questo kit perché ero attirata da queste figure questi motivi un po' di staccionate muraglie così no perché io compro e poi mi vengono le idee questo è un esempio di kit poi abbiamo anche non so se voi lo conoscete dei kit in cui vengono messe delle fotografie abbinate a delle carte ma nel foglio di come si dice non accettato si diciamo accettato già formato faccio prima farvelo vedere ecco vi faccio vedere il tutto ancora sono dei kit così hanno un nome penso che adesso io non ricordo perfettamente come si chiamano kit per fotografia non mi ricordo sinceramente ragazzi scusatemi ma non mi ricordo comunque ve ne rendete conto perché c'è una spiegazione sotto diciamo sotto il prodotto che state guardando è sempre un kit però è un kit che vi permette perché è composto da questi vedete che sono degli scomparti su cui voi potete infilare sia le foto che le carte e si possono abbinare magari qua il giornaline qui le foto una foto una una cornice un'altra cosa un motivo di carta e hanno sono 30 per 30 e hanno i buchi da poter rilegare quindi voi vi formerete perché in ogni kit ce ne sono esattamente 5 voi vi formerete un un album tradizionale grande 30 per 30 ma fatto in modo diverso vedete che comunque sono tutte combinazioni differenti queste sono così queste sono così e questa addirittura è intera e queste sempre suddivise ecco io adesso ho un foglio qui dove vi faccio vedere un piccolo esempio dovrebbe essere qui ecco ce l'ho qua dove vi faccio vedere un piccolo esempio di formazione di una pagina ecco adesso ve lo metto così vicino così vedete bene ecco vedete questo è un foglio di carta che potrebbe essere questo vedete che ha tanti disegni ok questo è il foglio trasparente diciamo la protezione che c'è nel kit e voi potete fare anche questo genere di trasformazione vedete qui c'è la foto qui un'altra foto e qui abbiamo le combinazioni della carta è giusto per rendervi conto cioè per farvi vedere ecco un attimino come potrebbe essere utilizzato questo genere di kit di solito anche qua abbiamo 12 pagine cioè 12 foglie di carta tutti differenti questo qui è della grafic 45 e poi avremo anche un 30x30 di pretagliati oppure in questo caso sono adesivi vedete così e naturalmente in ogni in ogni kit avrete anche l'alfabeto molto importante per poter scrivere i titoli e tutte le cosine e anche qualche scritta sono molto carini simpatici e diciamo che meno impegnativi per fare un album dall'A alla Z qui invece dovete solo inserire e decidere come impostare tutte le figure insieme alle vostre foto questo è quanto per quanto riguarda appunto i vari set i vari kit che ci sono ve li ho fatti vedere perché alcune di voi magari non li conoscono non sanno neanche l'esistenza mentre invece ci sono tanti prodotti che a volte con poco riusciamo a fare degli ottimi lavori dunque poi cosa volevo farvi vedere volevo farvi vedere le mie collezioni vabbè le conoscete le mie collezioni preferite sono quelle della graphic 45 però mi piace anche la DCWV e quindi una mia carissima amica che saluto lei sa chi è e ogni tanto mi regala qualche blocco e me ne ha regalato uno da poco che mi è piaciuto veramente veramente tanto e volevo farvelo vedere perché se vi capita di appunto averlo sott'occhio così sapete come è formato ve lo faccio vedere subito e no e questo non è della DCWV è della recolation che un po' ci assomiglia diciamo ci assomiglia perché i blocchi sono sempre di 48 fogli di 48 pagine quindi e in più ha anche quasi la stessa tecnica lo stesso stile quindi non è quello ma è recolation e vi faccio vedere questa collezione che è veramente fantastica primo a partire dal colore perché è il mio colore preferito è il vintage il vintage il il craft vedete non sono doppie però cioè è come se fossero disegnate sopra un cartoncino color craft e lo spessore è veramente fantastico quindi questa è una collezione che riguarda appunto più che il giardino diciamo l'orto ed è veramente stupenda io non so se voi riuscite a vederla bene guardate a parte i motivi glitterati che comunque è un glitter molto sottile e quindi non fastidioso ma io sono incantata nello spessore di questa carta ve la faccio vedere un po' così voi vi rendete conto se per caso vi capita appunto di di vederla sapete come vedete che ha anche tanti motivi cioè con questa carta voi potete fare non solo gli album o potete abbellire anche i vasetti della marmellata i vasetti che normalmente si usano in cucina con le varie etichette veramente molto bellino e fare anche dei ricettari oppure utilizzarle come questa figura per esempio per fare dei layout bellissimi con degli spondi particolari molto 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 bella io veramente l'ho ringraziata ma la ringrazio tuttora perché mi ha fatto veramente un bellissimo regalo ecco qua vedete i quadrittini cioè è molto molto bello ce n'è ce n'è io so che a voi piace vedere i motivi di carta comunque ripeto ragazze le carte sono gli elementi fondamentali per fare questo questo hobby perché tutto si gira intorno alla carta è bella bella veramente molto bella e poi abbiamo anche dei motivi appunto tipo bordini da poter ritagliare e inserire nel progettino questi quadrattini sono favolosi aspettate che mi sta spavolando allora così così e questa è l'ultima veramente molto bella ecco qua e non vedo l'ora di metterci mano sono tanti progetti che ho in mente però il tempo è sempre poco è proprio poco infatti io ho alcune collezioni della graphic che vorrei poter utilizzare ma mi manca il tempo diventeranno proprio vecchie infatti non so ciò ho queste questa che vorrei veramente utilizzare perché mi piace tantissimo poi anche questa che mi ha regalato mio marito al compleanno febbraio scorso e anche questa è meravigliosa insieme a questa questo era il regalo di mio marito quest'anno per il mio compleanno e non sono ancora riuscita a sfruttarla e in più ne ho anche un'altra che questa avevo fatto il diavolo a quattro per averla e qualcuno mi ha aiutato ad averla chiede questa qua che io amo in modo particolare in primis perché c'è beige bianco e nero questi colori io li adoro poi specialmente il beige accompagnato dal nero è proprio il colore che prediligo nei miei lavori vintage e quindi vedete è bellissima e non vedo l'ora questa qui anche è un anno che ce l'ho e sta aspettando appunto per essere elaborata e basta ragazze cosa posso dirvi altro di carta fate attenzione appunto quando comprate della carta che magari potrebbe essere potrebbe sembrare in un modo e invece ve la ritrovate in un altro oppure un nome che pensate di conoscere invece no c'è carta e carta diciamo comunque spero che di essere stata un po' di aiuto per quanto riguarda anche un po' le grammature del cartoncino ogni grammatura ha il suo utilizzo e di conseguenza dobbiamo imparare pian pianino anche a nostre spese a conoscere bene l'utilizzo che hanno questi cartoncini in modo da non sprecarli di fare dei lavori appunto con un ottimo risultato perché se no magari sprechiamo del tempo denaro e ci ritroviamo con delle cose che non ci piacciono perché non sono venute bene perché non abbiamo saputo scegliere il materiale adatto ok era solo una prefazione che volevo fare e anche ne ho approfittato appunto per farvi vedere un po' di carta per farvi conoscere qualcosa anche magari alcune che si stanno avvicinando adesso che sono nuove non conoscono ancora e quindi adesso basta adesso vi saluto vi bacio tutte e vi do appuntamento al prossimo video che spero di riuscire a farvi il tutorial di questo forse ce l'ho vicino non ce l'ho quindi non ve lo faccio vedere spero di riuscire a farvelo questo tutorial perché comunque è un oggettino carino da poter regalare per Natale fare questi regalini così un po' diciamo poco impegnativi magari alla vicina oppure all'amica o la collega di lavoro un qualcosa di carino fate una bella figura e non non è molto costoso quindi spero di riuscire entro domani non vi dico niente perché se no mi rimproverate se non ci riesco quindi vi vi saluto vi saluto un bacio e a presto ciao ciao a tutte ciao a tutti